Dall'ombrellone al panettone è questione di un attimo anche in ragione di cambiamenti climatici dalle conseguenze drastiche ed è per questo che anno c'era inferiore si scaldano già i motori in vista del Natale senza per questo concedersi però distrazioni in merito all'avvio oramai imminente del nuovo anno scolastico. Il sindaco De Maio conta di tenere a battesimo lo start senza affanni. Noi siamo già tra l'altro in procinto dell'organizzazione dell'attività natalizia apriremo una finestra su cui stiamo lavorando per fine mese per un altro periodo di iniziative importanti in città e poi ci concentreremo su Natale fermo restando che la settimana prossima concluderemo i lavori per l'apertura e l'inizio dell'anno scolastico che ora ci vede coinvolti chiaramente tra cedere Libraia, Mense e trasporto. Abbiamo un gruppo di lavoro tra i 15 consiglieri e i 7 assessori coprono tutta la torta anche se le fette sono sempre tante ma contiamo di essere pronti tra le manutenzioni io ho anche ascoltato i dirigenti delle scuole superiori che non sono demandate nella nostra competenza ma sostenendo le interventi che hanno richiesto alla provincia prima dell'inizio dell'anno scolastico farò una verifica con i dirigenti dei istituti comprensivi siamo pronti con Mensa, Trasporto Scolastico e le cede Libraia Trasporto Scolastico è stata un'innovazione apportata da noi l'anno scorso che ha riscosso tanto successo siamo pronti quindi contiamo di farci trovare pronti all'inizio anche dell'anno scolastico che è scelta arriviamo alla possibilità